Bella a tutti ragazzi, eccoci qua sul canale Pijetiknea e con questo piccolo video informazioni allora con questo video vorrei dare delle info prima di tutto voglio ringraziare tutti gli iscritti che siamo arrivati quasi a 500 quindi mi fa molto piacere questa cosa secondo luogo voglio sempre chiedere scusa perché purtroppo sto facendo veramente pochi gameplay anche dovuti al fatto del problema della Playstation 3 visto che ormai le ultime novità le ho prese quasi tutte su Playstation 3 quindi sono rimasto un po' bloccato quindi come procede allora l'hard disk della mia Playstation 3 ovvero questo che è un Seagate 500GB è andato a farsi fottere ora ho perso salvataggi dal 30 di aprile fino a altre settimane fa quindi un paio di mesi di salvataggi andati a farsi fottere ora la mia Playstation 3 ha un'hard disk che è un 750GB perché ormai non costano più niente dalla Western Digital dove ho cominciato a diciamo a scaricare tutti i contenuti e tutte queste cose e spostare i salvataggi che avevo su un hard disk esterno appunto di quelli di aprile ho riattivato il plus plus che dir si voglia perché io coglione ce l'avevo lì ma non l'ho mai attivato quindi non ho potuto fare salvataggi in cloud e adesso l'ho presa in quel posto perché se l'avevo fatto se l'avessi fatto a quest'ora non avrei perso tutti questi salvataggi quindi vabbè pace quindi poi altra cosa io settimana prossima ovvero adesso vediamo il calendario che non mi ricordo neanche più le date qua dal 12 agosto al 18 sono in vacanza quindi non ci sarò non avendo una partner non posso programmare video ma appunto presterò la mia Playstation a un mio amico che mi porterà avanti un po' i giochi dove ero rimasto in modo da recuperare un po' i salvataggi persi in questi giorni caricherò già da stasera le puntate rimaste che avevo già pre-registrato che sono rimaste sul PC di The Last of Us Reveber Miss saranno pochi minuti poi mi concentrerò su giochi della Xbox come Forza Motorsport Forza Horizon e altro finché non riesco a riprendermi a riprendermi e quindi niente questo è quanto mi chiedo ancora scusa abbiate un attimino di pazienza poi ritornerò come prima a postare quasi un video la sera e niente ringrazio ancora tutti e ai prossimi video ciao ciao da GeneticDNA